Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera, cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questo è una donna, senza capelli e senza uomo, senza più la forza di ricordare. Voto gli occhi e freddo il grembo come la rala di verbo. Meditate che questo è stato, vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, state in casa andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. Ovi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso lavoro. Ovi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso lavoro. Ovi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso lavoro. Ovi se sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torano di spettacola, i vostri nati torcio e i vostri nati tor sciences, viwalkerto il viso lavoro. Grazie a tutti.